Gentili telespettatori, buona giornata a sondaggio SVG sulle astensioni, sull'astensionismo. Vediamo che alle europee del 2019 la colonna blu, alle europee del 2024 la colonna marrone. Vediamo che l'astensione passa dal 46 al 53, più 7%. Le donne passano dal 48% di astensione al 59, più 11%. I giovani l'astensione passa dal 51 al 56, più 5%. I lavoratori autonomi passano dal 34 al 41, più 7%. Vediamo che i ceti bassi, economicamente, dal 45% di astensione al 58%. L'incremento più alto è proprio dei ceti bassi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.